Eccoci qua in un nuovissimo video di Pokemon Rossofuoco Andiamo avanti Ok andiamo avanti Andiamo con lui cosa ci Ma quanti sono di allenatori? Un miliardo Un milio Questo chi è? Marcos Mandaggio a Odud Lo faccio fuori subito Un bracere Giaudud purtroppo fa fallire Va bene Giaudud Esaurito La prossima scelta di Marcos E Aventuriero Sarà Giaudud Vai Vai Manda in campo Marcos No No Giaudud Marcos manda in campo Perfetto 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 Paraparaparaparapam Paraparapam Online Rebellente Rebellente Usa Perfetto Che repellente Fatto Via Via Online Trova piadra lunare Vediamo Vediamo un po' Dove si porterà qui Monte luna Ah no Un'altra parte Del monte luna Forte Secondo cammini qui Si fanno i passi Mi sa che Non Monte luna Dove Ok Un altro pezzo Un revitalizzante Ok Revitalizzante Lo Usiamo Spoh Ok Subito Il Revitalizzante 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 Lo diamo a Lui Almeno Ha usato Revitalizzante Un po' di vita L'aria L'aria Questa Ora Diamo Un Pozione A Lui Lui Ok Vi sa Ora Mi hanno recuperato Un po' Si Rebellenti Un po' di Super Rebellenti Almeno Durano Un fracasso Vabbè Un po' di Pozione Rebellente No Funi di fuga Serve Il Re Dell Ok Perfetto Rebellente Usata Andiamo Devo andare Dalla Recluta Come si fa Andare Dalla Recluta Scendendo Eccola qua Una Delle Reclute Ok Dobbiamo Muoverci Quindi Ivisaur Non sa Chi Aiuta Al momento Anche Anche se Ti Dovrei Anzi Sì Anche Se Facciamo Così Almeno Facciamo Prima Le cose Velocemente Morto Ora Via 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 A me Facciamo Prima Stun Ok Morto Quattro Quanti Ne ho presi Di monete Quindi Ora Andiamo Di qui Avanti No Rebellente Via Via Recluta Affrontiamola Andiamo Veloci Scusa Verenpolvera Andiamo Avento Ok Questa Mossa Non La Non La Levo Questa Qua Che S'è stata Dai Ok 157 Punti Esperienza Io Vi sa Usa Livello 17 Non C'è La Sedella 17 Va Bene Quindi Ora No Assolutamente Posso stare Sempre Posso stare Tanto Che va Ok Perfetto Non è molto Efficace Ma l'ha Shattato Quindi Oh Perfetto Dalla Dica No Mossa Le cura 20 Spero No Ok Si Ferma Quindi Grr Sono Furioso Online Vincere Oddio Ma quanti Punti Quanti Dollari Danno Quindi Mi Ehi Giù Giù Le zampe Questi Due Fossili Li Ho Trovati Io Sono Miei Eh No Li Devo Avere Io I Fossili Quindi Lottiamo E prenderò I Fossili Spero Che Mi Li Dia I Fossili Grimer È Molto Bello Come Pagamon Però Non è Il Momento Ora Di Saur Perché Devo Fare Più Mi Fretta Eccolo Questa Sella 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 Pogamon Da Sulla Non Fanno Nulla Morto Ok Amica Saurita Riccente Forte Ecco Forte 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 Io Sì E Gli Mettano Le Rebellenti In Mano Ok Ok Quindi L'ho Ruggito Facciamo Mò L'ho 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 Si è caricato Ferro Artigli Vai Ok Se deve Sempre Caricare Questo Inizia a Caricarsi Eh Bracere Così More Subito E vai Perfetto Non si può Caricare Più Ok La prossima Coffing Coffing Non voglio Proprio Niente No Grazie a tutti. 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 Questo video durerà un po' più del solito, perché non so dove devo andare, quindi devo un attimo capire. Allora, andiamo a vedere la strada, credo che devo riandare. Ok, quindi... Come è finito, mannaggia, i ribellenti durano pochissimo. Oh no, dico, non c'è nulla. Monteluna... Eeeh... Ehm... 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 Foglie lama... Foglie lama... Ah, assolutamente. Quindi, sonnifero... Brassi seme... Ehm... 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 No, non voglio prendere Pokémon perché lui mi sembra buoni, vi sa ora adesso... Ehm... 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 Voglio lama... Vabbè... 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 Non è molto efficace, ma lo sarà presto efficace. Ok, 145 punti... Vabbè... Allora... Vince... 352... Pochi dollari... Vabbè... Così... Vediamo un po'... Trai... Mt46... Ok... Allora... Ora possiamo anche andarcene nella... Ehm... Dalla nostra... Credo che... L'uscita... Ehm... L'effetto indiferente è finito... Ehm... Vado un attimo a vedere... Ehm... Una... Repellente... Venite... Andate a combi... Eh... Questo video durerà... 25 minuti più o meno... E usciamo dalla grotta, vediamo un attimo... Dove... Devo andare... Non so dove... Devo andare... Quindi... Vado un attimo alla scoperta... Quindi... Vai... Perché sono... Strade molto lunghe... Quindi... Quindi... Facciamo... Quindi andiamo a vedere... Andiamo qua... Il repellente è finito... Si può fare ogni volta il repellente... Automaticamente... Andiamo avanti... La negrota l'abbiamo sconfitta... Effetto del repellente è finito... Medaglia... Zaino... Repellente... Debiamo il repellente... Vediamo un attimo... Dove tocca andare... Eh... E qua... No... E qua c'è una scala... Ma è andato... Ehm... E... Zaino... Revellente... Mamma mia... Che fastidio... Ah no... Ah no... Allora devo andare di là... Di là ci sono stato... Sì... Quindi... Di qua... Dato che... Oh... Cavolo... Le repellente ne servono... Davvero troppi... Quindi ora... È il momento di andarcene... Oh... Di qua dobbiamo andare... Quanto ci siamo passati... Vai... 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 Il Pokémon... Ok... Vai... 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 È stato avvenenato subito il Pokémon... Vai... Ehm... Ok... Fristata... Non parassi seme... Qua si fa... Perfettamente... Ehm... Foglia Lama... Via... Usavano un colpo... Secco... Ha tre Pokémon... Comunque questo qua... Da vedere... Voglio cambiare Pokémon... Ma certo che voglio cambiare... Pokimane... Non si dice Pokémon... Eh... L'ho sentita solo... In TV... Quella dicevano Pokémon... Troppo... Ehm... Pokémon... Ehm... Sassata... Ora non mi sentirete... Per un po'... Fino a fine video... Non... No... Um... Ehm... Eh... Tu te ne versi... Ehm... Ehm... Questa... Leve... Trae... V... Ehm... O... Questa... 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 Ok Meno male La sala è livello 16 Joyhood sta cercando di imparare Ok vediamo 4 mosse Vediamo che mosse è Magnitudo È tipo Ro terra Ro ciascuno Azione Azione la potriviamo E paff 8 azione Magnitudo Meglio sempre di azione credo Beh Ha perso 120 pochi dollari E vai Vediamo di qui Vediamo cosa Si c'era all'interno di questa grotta Nulla possiamo andarcene Perfetto E finire il video Via E' bellente Vediamo un po' Credo ci sia la fine Io Adesso finisco il video E' Nel prossimo video Mi vedrete dall'altra parte Alla fine della grotta Ciao raga Al prossimo video Ciao raga Ciao raga Perfetto